Dolore, rabbia e commozione oggi pomeriggio a Portempedocle in occasione dell'ultimo saluto a Marco Castronovo, il sedicenne morto nel terribile schianto di sabato sera lungo viadotto della strada statale 115 incontrata a Ciuccafa. I funerali del ragazzo si sono tenuti nella chiesa di San Giuseppe Lavoratore, incontrata in Vicherna nel rione dei Grandi Lavori. Alla funzione religiosa hanno partecipato i familiari, i parenti, amici di Marco, semplici cittadini. Stracolmo il luogo sacro, altrettanto cremito il vicino piazzale. A volte ci chiediamo quale sia il disegno di Dio quando accadono queste tragedie ispiegabili ai nostri occhi, essendo il messaggio dell'omelia di Don Giuseppe Gelo. La risposta è che nei piani di Dio il nostro sulla terra è solo un passaggio e che non dobbiamo temere alcun male. Al termine della funzione religiosa il ferretro è stato accompagnato a spalla dal piazzale della chiesa fino in via dello sport dove Marco Castronovo è nato e è cresciuto. Stazionare ma sempre grave invece le condizioni di CM, 16 anni di Portempedocle, il giovane che era alla guida dello scooter Piaggio Liberty su cui viaggiava Castronovo. La domenica scorsa il ragazzo si trova ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Villa Sofia di Palermo. Le sue condizioni sono sempre gravissime.